Bentornati ad una nuova puntata di Storie e Persone. Ci troviamo con Alessandro Pironti. Ciao Alessandro. Ciao. Iniziamo facendo una piccola presentazione di te. Di chi sei, da dove vieni, cosa fai? Sono un cremasco di 32 anni, ormai 32 primaveri, sono consulente aziendale, lavoro in cremasco a Milano e da ormai molti anni sono attivo nel volontariato e in vari ambiti di assistenzialismo, possiamo dire. Infatti parliamo di progetto Crema. Il progetto Crema è questo progetto di gruppo. Qual è il suo scopo e come funziona? Il progetto Crema nasce come un'associazione no profit che cerca di realizzare progetti migliorativi per crema e per il cremasco. Quindi che cosa facciamo? Noi troviamo persone volenterose, intraprendenti, che vogliano farsi carico di un progetto, semplicemente collaborare alla sua riuscita e senza utilizzo di fondi pubblici, vedere appunto la realizzazione dello stesso. Si tratta di progetti in tantissime aree, dal ambiente, turismo, proloco, musica e spettacolo, eccetera. Anche perché i cremaschi sono diversi tra loro, ognuno ha le sue esigenze. Chi è che ha aderito a questo progetto? Soprattutto so che sono molto giovani. Sì, i dirigenti stupiranno per la giovanità e questo è bellissimo perché noi diamo al dirigente piena autonomia nella gestione del progetto. Quindi vedere ragazzi di 20, 25, 30 anni, io ad esempio che ne ho 32, sono uno dei meno giovani e questo è emblematico, il tempo passa, hanno gestione dei progetti, hanno dei collaboratori che in alcuni casi hanno addirittura 16, 17, 18 anni, studenti di scuole superiori e sfruttano le competenze, le conoscenze, il know-how di talvolta consulenti meno giovani, conosciuti anche nel panorama cremasco per portare a termine i progetti di cui sono, insomma. Ma questo progetto è nato perché, secondo te, scusami, ti do del tu perché appunto sei giovane, è nato perché crema è migliorata o peggiorata rispetto al passato? Domanda da un milione di dollari. Mi attirerò delle ire. Io sono stato via da crema per un periodo, sono ritornato, quindi ho avuto gioco facile nel trovare delle differenze. Ed effettivamente in alcuni ambiti l'ho trovata peggiorata. Non saprei dire se è un problema di crema o un problema più generale che comunque ha colpito marginalmente anche crema. Però a livello di tessuto sociale, a livello di serenità dei cittadini tutti, ho trovato qualcosa che non va. Non è una questione di sinistra e destra, trascende dai partiti politici. Vedo però un clima non disteso, vedo a volte poca positività e propositività in ambito sia no profit che invece tutto quello che concerne le attività commerciali o altro in città. Niente di grave, tutto migliorabile e siamo qui anche per questo. Appunto per questo. Spera. Tra poco ci saranno anche le elezioni amministrative. Ci sarà la possibilità che diventiate una lista, questo progetto crema? Mi auguro di no con tutto me stesso, perché il progetto crema per riuscire nel suo intento deve avere comunque l'appoggio della giunta. In quanto, sebbene non si utilizzino soldi pubblici, molto spesso sarà necessario chiedere autorizzazioni al comune per determinate attività. Chiaro che avere un rapporto di felice e vicinato, comunque collaborativo con la giunta è fondamentale. E c'è sempre il rischio, e a crema talvolta capita, che essere visti come il nemico di turno possa portare una preclusione totale, un muro contro muro, a vedere bocciate, cassate preventivamente senza buone ragioni anche delle idee valide. E questo proprio noi non lo vogliamo. Possiamo avere qualche esclusiva se c'è qualcosa che bolle in pentola? Una sì, e spero davvero interessi molto i cremaschi, io credo molto in questo progetto. Noi ci siamo presentati già annunciando un progetto, è stato il nostro modo di dire, bene, noi vorremmo fare. Sì, perché poi vi siete proprio appena presentati a tutti. Sì, è bizzarro, perché io so, per presentare il statuto atto costitutivo, precedentemente presento un progetto realizzato che è la Banca del Tempo. La Banca del Tempo non è nulla da noi inventato, in quanto è un format già presente in moltissime città italiane. Si tratta del mutuo scambio di prestazioni e servizi tra cittadini senza che vi sia una transazione economica, senza che vi sia un passaggio di denaro. Non è un baratto teso a deludere l'IVA, ovviamente, ma è proprio la prestazione di servizi base di cui possono avere bisogno, soprattutto le persone in difficoltà. Io penso principalmente a persone anziane o in grosse difficoltà economiche. Talvolta questi servizi sono, ad esempio, l'aiuto nel lavoretto di casa, piuttosto che molto molto spesso la compagnia degli anziani. Chiedono questo molto molto spesso, dove non può arrivare, non è una critica, l'amministrazione pubblica e quindi l'assistenza sociale, devono necessariamente arrivare le associazioni di volontariato. Sì, perché poi voi siete tutti volontari dentro questo progetto, giusto? Sì, siamo una no profit, quindi ovviamente tutto quello che dovessimo ottenere con sponsor, con l'aiuto di qualche privato, sarebbe comunque reinvestito. Non vi è nessuna figura, nessun membro della nostra associazione che percepisce un compenso. Quindi tutto quello che è il nostro lavoro è totalmente a titolo gratuito e non potrebbe essere diversamente. È proprio la base sulla quale si fonda tutto, l'idea di noi vogliamo fare qualcosa senza minimamente pesare sulle casse pubbliche, sui conti, anche perché altrimenti verrebbe meno il senso del dare senza ricevere. Chi vuole entrare in questo progetto Crema? Come fa? Noi attualmente stiamo realizzando un sito web, ma siamo su Facebook all'indirizzo www.facebook.com slash progetti Crema, progetti Crema, esatto. Progetti. Plurale, pensiamo in grande. Allora Alessandro, io ho saputo che hai avuto anche una casa discografica. Sì, nel lontano 2003. Mi è passato qualche annetto, ero un ragazzino, un bel giorno, davvero è andata così, sembra incredibile. Mi sveglio un giorno, vedo che la situazione musicale cremasca non è valorizzata a dovere e mi dico ma è davvero così difficile senza particolari investimenti e fondi fare qualcosa a livello di promozione per le band cremasche e fare in modo che vengano pagate anche per i loro servizi, dato che non accadeva in maniera così frequente. Allora apro l'etichetta discografica, mi faccio conoscere per l'intenzione di portare sei band alle audizioni della BMG Ricordi che è una delle principali etichette discografiche italiane. Lo facciamo, va molto bene. Il disco grafico Demetrio Sartorio prende nota di alcune band, tra queste e Clivius, quindi una band anche abbastanza conosciuta nel panorama cremasco. Dopo portiamo quattro band su Antenna 3, un'altra emittente per una trasmissione musicale, dopodiché pubblichiamo una compilation che viene venduta nel cremasco in 2000 copie e probabilmente più importante, ogni venerdì sera in quello che fu il Mac Guinness, poi Irish Park, abbiamo realizzato ogni venerdì sera un live differente con due band che venivano pagate, veniva riconosciuto tutto il versamento CIA, Impulse, eccetera, che era una cosa abbastanza nuova e facevamo in modo, tramite pubblicità che non costava nulla, nessuno era a nostro carico, a mio carico allora, facciamo in modo di promuovere gli eventi e di avere un discreto successo a livello di visibilità. Un ottimo progetto, speriamo allora di continuare di rivederni tanti altri nuovi. Sì, non posso anticipare nulla, però la banca del tempo è il primo passo, spero che molti cremaschi vorranno così aderire e speriamo di rivederci presto per parlare di altri. Esatto, quindi ricordiamo che possiamo trovare Progetti Crema su Facebook, quindi andate a cercarlo, su www.facebook.com.progetticrema e a breve saremo anche su progettocrema.it. Grazie mille Alessandro, grazie ai nostri telespettatori che sono stati con noi a Storie e Persone, ricordo che per tutti i comuni che vogliono mostrare bellezze ed eventi possono contattare al numero 0363340500 oppure a scrivere a ufficiostampacchiocciolatrstv.it. Grazie, un saluto, ciao! Ciao! Ciao!